Il mulino operoso. Dunque, in questa pagina abbiamo molte novità. Cominciamo a vederne una alla volta. Intanto, all'inizio del nostro pentagramma abbiamo un bemolle. È la prima volta che troviamo un bemolle all'inizio del pentagramma. Avevamo già suonato qualche brano con un diesis e questa invece è la prima volta che ci capita un bemolle. Guardando con attenzione su quale linea è scritto questo bemolle, noi vediamo che la pancia di questo B minuscolo è sulla linea dove sta la nota SI, per la destra e anche per la sinistra. Cosa vuol dire questo? Allora, che questo bemolle è una promemoria, è un messaggio. In pratica noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che troviamo un SI nella nostra musica dobbiamo suonare il tasto SI bemolle, cioè il tasto nero che sta a sinistra. Non questo SI, ma questo in SI bemolle appunto. Per non doverlo scrivere accanto a tutte le note che ci sono nella pagina, viene scritto all'inizio del rigo in maniera che ciascuno dei pianisti, quando suona, se lo possa ricordare. Allora, noi abbiamo per la mano sinistra molte volte il SI. Eccolo qua, ce ne sono veramente molti. Non dobbiamo farci, come dire, suggerire in maniera sbagliata che, visto che questo bemolle è scritto qua in basso, per lui non conta. No, in realtà il bemolle è scritto in una sola posizione, ma vale per tutti i SI che noi troviamo sulla tastiera, per cui anche per questo SI. Anche se non si trovano nella stessa posizione, il bemolle è scritto qua in basso, invece il nostro SI si trova in alto. In realtà tutti si sono interessati da questo simbolino. Poi un'altra novità. Noi vediamo che questa nota, per esempio, oppure questa, oppure altre nella pagina, è una nota nera con il puntino accanto. Noi, fino adesso, fino ai brani che avevamo trovato da suonare oggi, abbiamo trovato, ecco qua, soltanto le note bianche con il punto accanto. E noi sappiamo già che la nota bianca con la gamba e il puntino accanto ci dice di contare fino a tre. Ecco, questa è una novità, una nota nera con il puntino che ci dice di contare uno e mezzo. Uno e mezzo, cosa vuol dire? Se parlassimo di monete potrei dire un euro e cinquanta centesimi. Abbiamo già visto in un altro brano musicale. Le note chiamate da un ottavo, che tra l'altro sono molto molto presenti anche in questa pagina. La mano sinistra ha soltanto note da un ottavo, a parte proprio l'ultima nota. Tutte le note, cioè unite e collegate da questa barretta. Cosa vuol dire? Che, visto che noi dobbiamo contare fino a due, nel tempo in cui noi contiamo un numero, dobbiamo suonare due di queste note. Infatti contiamo fino a due, ma le note sono quattro. E allora cosa vuol dire? Che queste note non hanno un numero intero, ma soltanto la metà. E noi riusciamo a contare bene dividendo la parola nelle sillabe. Uno, due, e. In questa maniera ogni nota non ha il numero completo, ma soltanto una sillaba, per cui metà del numero. E allora abbiamo capito che una di queste note vale una sillaba. E vediamo in questo piccolo riquadro. C'è un riassunto. Una nota di questo tipo vale, cioè conta quanto due di queste. È uguale come durata a due di queste. E invece una di queste note, la nota da un quarto, con il punto, vale quanto tre. Cioè uno e mezzo. Perché è come dire tre monete da 50 centesimi. Totale un euro e cinquanta. E allora, se ciascuna di queste note vale per una sillaba, vuol dire che questa nota di sillabe se ne prenderà tre. E io infatti vedo che qui c'è scritto, tra la mano destra e la sinistra, in che modo io devo contare mentre suono. Proprio perché questa è una novità, per cui il libro mi suggerisce come contare. Come devo contare? Uno, due, e per quello che riguarda la mano destra, la mia prima nota mi prende tre sillabe. Uno, due, cioè la metà del due, e la seconda parte del due è occupata da una di queste note. Noi avevamo visto che se le note sono unite, così, con la barretta, noi le riconosciamo bene. Ma se si trova una sola di queste note, allora, non essendoci un'altra nota a cui collegare questa barretta in questo modo, allora ecco che troviamo questa piccola coda che penzola. Quindi questa nota da sola si prende una sillaba, è la sillaba che avanza dopo che la prima nota, il primo FA, ci ha fatto contare uno, due, e. Quindi, per semplificare suono, la prima riga della mano destra, dove abbiamo la prima e la seconda battuta che sono uguali, con un FA che dura uno e mezzo, quindi tre battuta, tre sillabe, una sola nota che prende la sillaba che rimane, e poi altre note che noi abbiamo già ormai imparato a riconoscere. Uno, due, uno, due, uno, due. E questo è il risultato. Ho ottenuto il tasto premuto finché non ho contato uno, due. Quando sono arrivato a lei ho suonato la nota successiva, e questo ci fa capire anche in che posizione devono stare le mani. È una nuova posizione. Noi siamo arrivati a contare fino alla terza posizione, ma a questo punto, da qui in avanti, le posizioni saranno molte e molto diverse, per cui non ha più senso ormai contare tutte le posizioni. È una nuova posizione dove le mani sono appoggiate sulla tastiera a partire dal FA. FA, SOL, LA, SI, DO. Ricordandoci che il SI è bemolle. Di conseguenza, le nostre dita non saranno appoggiate sul tasto bianco, ma direttamente sul tasto nero, nel caso ci fosse bisogno di suonarlo. FA, SOL, LA, SI bemolle e DO. Questa è la posizione di partenza. Tutte e due le mani stanno sopra le stesse note. FA, SOL, LA, SI, DO. Quindi, la mano sinistra ha tutto sommato poche note da suonare. È vero che qui suona in continuazione, ma le note che deve suonare sono soltanto LA, SI oppure DO. infatti, il primo rigo è tutto formato da LA e DO in continuazione, dall'inizio alla fine. Il secondo rigo è tutto di SI bemolle e DO, SI bemolle e DO fino alla fine. Il terzo rigo è di nuovo esattamente uguale al primo, quindi ancora LA e DO, LA e DO fino alla fine. E il quarto rigo, l'ultimo, ha una prima parte con SI DO SI DO SI DO e la parte finale LA DO LA DO LA. Per la mano destra non ci sono grandi altre cose da osservare e alla fine abbiamo due note legate, per cui due note che si fondono e diventano una sola nota che conta tre, cioè due più uno. non ci resta che suonare prima una volta la mano destra da sola, suono la mano destra contando ad altavoce, poi suono anche la mano sinistra e poi le due mani insieme. uno 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 due uno due 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 pausa mano sinistra la mano sinistra in effetti è veramente quasi noiosa a un certo punto molto ripetitiva le due mani insieme la mano sinistra la mano sinistra la mano sinistra Grazie a tutti. Ultima piccola osservazione. Noi abbiamo visto che la presenza di un diesis, che noi abbiamo trovato in altri brani, come per esempio questo, un diesis, era anche un codice, oltre che un promemoria. Cioè ci diceva che in quel brano la nota più importante era il sol. Anche questo bemolle è un messaggio in codice che ci dice che in questo brano, cioè in tutta la pagina, la nota più importante è il fa. Un po' per volta impareremo a riconoscere il codice e qual è la nota più importante a seconda dei bemolli o dei diesis che troviamo. E' il fa. Infatti noi ce ne accorgiamo perché le due mani sono tutte e due posizionate partendo dal fa e andando verso il do. E la prima nota che si suona, quella della melodia della parte della mano destra, quella più importante, è il fa. Si ritorna molto spesso sul fa e il fa è anche la nota che conclude il brano. E per adesso è tutto.